Non sono solo retroscena, c'è una newsletter inviata da Matteo Renzi, se non è un omonimo è sua. C'è un'intervista all'Espresso di venerdì chiarissima, ci sono prese di posizione quotidiane dei suoi ministri e del ministro per le riforme Boschi. Io non capisco di che cosa stiamo parlando, se Renzi voleva cambiare ha tutte le occasioni per farlo. Vi ricordo che giusto un mese e qualche giorno fa in Senato è stato votato un testo senza il PD, senza un pezzo di PD che è proprio quello che adesso minaccia. Io non so cosa deve succedere ancora, ci siamo, io no, ma ci siamo illusi che lo schema fosse quello di Mattarella, che sarebbe cambiato tutto, che avremmo negoziato e concertato le cose nel dettaglio. Non è successo così, non succederà così, non è il modello di Renzi. Renzi bisogna quantomeno conoscerlo, anche se non si è d'accordo. Se invece si continua a sperare in una sua conversione si fa un lavoro totalmente inutile, secondo me. Se poi invece Bersani può dimostrare di avere 100 parlamentari che non votano più niente, e questo però allora si pone in altri termini, si dice guarda incominciamo oggi e ti facciamo vedere quanti siamo, altrimenti sembra un po' un blef.